Venerdì 10 agosto nell'area archeologica di Pausilipon la rassegna Teatri di Pietra in Campania ospita lo spettacolo Cassandra o del Tempo divorato, rielaborazione contemporanea del mito greco nella straordinaria interpretazione di Elisabetta Puzzi. Al Borgo Marinari la rassegna artisti al Borgo proporrà giovedì 9 una variegata performance di clownerie, caricatura, teatro popolare e mimo statuario con Angelo Picone e Angelo Sasso. Cinema a sdraio sul lungomare. Fino al 12 agosto in Viale Dorn saranno proiettati ogni sera documenti di cinema, teatro e televisione. Giovedì 9 uno speciale su Edoardo De Filippo e Massimo Troisi. Sabato 11 un racconto del primo scudetto del Napoli. Grazie a tutti.